Ciao a tutti ragazzi qui saluto GFurri e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati ragazzi in un nuovo episodio di Un cazzo perchè siamo in un nuovo video Ma siamo tornati nella mia vecchia casa Che in realtà non è che è vecchia È sempre stata casa mia Siccome siamo ricchi in Illuminati Crew Cioè Illuminati Crew accetta persone Solamente se hanno almeno 4 Porsche e 3 conti in banca Giampi tu quanta ne hai conti in banca? Eh uno purtroppo però Se ne sta andando a fanculo Allora tu sei un miracolato Stormi tu quanti ne hai? Ma guarda io per la mia esperienza Diciamo calcistica C'ho 4 case però me le hanno tutte sequestrate Tutte per problemi di mafia diciamo Perfetto a posto Ragazzi oggi siamo qua con What the Box Aspetta Giorgio In questo momento partirà la canzone soundtrack Di questo gioco Sì peccato che l'ho tolta Che è un gioco molto particolare perchè Mi legge la scheda video Vedete in video GeForce GTX 90 Cioè diciamo le prestazioni sono ottimali Sì è una bella macchina diciamo Una bella bestia Ragazzi in questo gioco Faccio prima a giocarlo che a spiegarlo Quindi se volete altri episodi Invitate già a vedere Allora ragazzi la stanza è mondo marcio La password è C'è lo mondo può essere Mondo con tutte le parolacce diciamo vero? No perché si chiama Quello diceva dentro una scatola Questo è il gioco Password? Wrong password Non mi ricordo la password un minuto Ma l'hai fatta 5 minuti fa Appunto compaggia 5 minuti Per ricordarsi una password Devo vedere Vai un neurone cazzo Stormy fa invio Slash nick Spazio Scanto No raga mi chiamo Can spettate Ma che mi ha benessuto Di nuovo quella grossa hai messo Ma che cazzo dici? Comunque ragazzi Questo gioco Presidente come vedete È pieno Costellato di Di scatole Però anche noi Forza La lavatrice Mi ha ucciso la lavatrice Raga ma mi spiegate come si gioca Che non capisco un cazzo Eh Stormy Muori la lavatrice Ma come fai? Cosa devi fare di sparare? No Pezzo di merda Pezzo di merda Mi ho incocciato pure io Come vedete abbiamo Sia diciamo il coltello Che è diciamo per slamare Un po' All'abbrazzo crew Sia la pistola Che è un po' più professionale Andate una fan Stormy allora In questa modalità Abbiamo solo un call Pettico one in the chamber Se sbaglio devi ammazzare col coltello Come call of duty Diciamo C'è una coltaglina Che mi insegue No No Ragazzi ma questo gioco Ha una grafica incredibile Sia cazzi Porca due Tua madre Dove siete pezzi di merda? È troppo scemo Raga ma quanto bello è questo gioco Bellissimo È veramente fantastico Allora ragazzi Io sono a due Devo recuperare le kills Diciamo A 25 kill di fila C'è lo scapolone gigante C'è lo minuto C'è la nuca enorme Porta Ma come? Scusami ma come mi hai preso? Eh perché io sono il vice Ma c'è combando su sto cazzo di gioco Sì sì C'è accoltelli da mezzo metro C'è hai un taglierino troppo grosso ragazzi Eh non solo quello Giorgio Giorgino Ma tua madre Ah guarda quanto sono Tua madre Cara mia lavatrice Ma quanto sta a 5 Minchia che cazzo è OP oggi lavatrice? Signor Jampidek qua stiamo deficitando Madre mia Ma guarda un po' Ma che Ah toma Ogni volta Tu padre Tu padre Ma dove? 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 Fancy made Sì No Ogni volta Sì Sì Mamma mia che figata Questo Questo è un gioco veramente Che contraddistingue Diciamo anche le capacità tecniche Audiovisive Diciamo Dei produttori Sviluppatori Sì No No Ma come? Suka Dai sono uno da lavatrice Devo killarlo C'è molta skill per giocare a questo gioco Oh ma vedi che Vedi che alla fine è un FPS Un TPA No Tu padre Di nuovo Ora ma è chiusa Ti giuro che adesso Sì Ma va Ok sono primo però Sono primo però Mamma mia che figata Prima non esiste sta cosa Non dovevi farlo Non dovevi farlo Vero Stormy Dove è il double switch? Vai Giammi Oh l'ho incominciata a allearvi No Non ci stiamo allenando Oddio Giampi Stormy è veramente Commando Quanto cazzo è forte Stormy Eh raga io mi sono allenato Ve l'ho detto Sono il figlio del mio padre Il mio padre fa il consegne Esatto Il diavolo Tuo padre lavora alle poste Selfio di TNT cazzo Ho visto qualche Oh oh porca Pottana Chi è questo Eh muori Oh ma è lavatrice Giampi vedi che lavatrice ci fa gli Skype È troppo forte Patrice è un cazzo Oh lavatrice Quanto Dio Troppo forte Troppo forte Quanto sono forte Ragazzi ma che sta succede Ma che sta succede Tiro l'arriere Occhio che tiro l'arriere Oh guarda un po' Oh lavatrice veramente Quanto ti odio Cioè non si può contenere È troppo forte Sono troppo forte ragazzi Sto per tirare l'arriere Oh lavatrice non te l'aspettavi Da dietro l'angolo diciamo Lo sapevo però hai avuto una mira Abbastanza tecnico Abbastanza pazza diciamo Sì esatto Un po' pazza Quei Giampi è pazzo Dove siete ragazzi Però c'è un po' di tensione C'è questa musichetta Oh ma veramente Ma che cazzo Minchia ma questo coltello È troppo pisto Taglierino Porca Com'è che ha 12 quello Ma stormi veramente Non c'è Non È impossibile Cazzo Ragazzi sono troppo forte Scusatemi ma La prima volta che gioco Ho già vinto Sono troppo forte Ciao Scusa Sì Vai così No spiegami un attimo Mammurri è primo come me No no Non va bene questa roba Mamma mia Stavo saltando Puffete No vaffanculo Lava staviglia di merda Contro lavatrice Perca tua madre Giorgio Puff Ti salta addosso Sei un pirla No No puttana Basta Dai Hai detto con la parola Che non si doveva dire E lavatrice mi ha ucciso Ecco un po' Perché Lavatrice vanno bene Insieme Datevene No raga Devo giocare un po' Da pro gamer Aspettate Non attaccare il joypad Ma non mi ha devasto Va bene ok Perfetto Mia madre non mi sa Educare Basta Giampiero E Giorgio lo so Ma però in questo gioco Ma però non si dice Una cosa buona Non la stai dicendo In questo video Manco l'italiano La vuoi ditta Una cosa buona La vuoi ditta Si Ma non c'è parlare No ma che porca troia Xmurri 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 No raga Devo vincere Devo vincere Che bestia E diciamo che Da 1 a 10 È abbastanza competitivo Questo gioco Cioè Si possono fare Le esble Quanto Si possono fare i tornei Ragazzi 10.000 mi piace E facciamo i tornei Con tutta l'illuminati crew Vai 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 Tornei What in the box Brocca 3 Raga ma Basta Che devasto Che sto facendo Figa maledetta La figa No la vostra E' primo E io sono il mio ultimo Io la fibra Io la fibra No Ecco l'altro con la fibra La vostra Mi chiede Sono on fire Oddio Sono in fuoco Sono on fire Ragazzi Sono in fiamme Stormi dobbiamo bloccare Questo cancro Quanto è di fuoco È di fuoco Si vede Stormi Aiuta BOOM What the fuck is that Raga ma questo gioco È troppo hardcore Diciamo È troppo hardcore C'è la vastoviglie Ison Sicura Saraginisca Come è che sei Oh Ciao Lavatrice Ciao No Ma tu padre Dai 6-8 C'ho almeno due punti da recuperare Forza 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 Dai Lavastoviglie Ma tu madre ti devo educare Con il bastone E lo sputo Mi educa con i piatti E a forza di Napisan Plus Così non mi viene il calcare Muori Ma com'è che riesci a spararmi In continuazione La lavatrice si sta lavando i panni Si sta facendo i panni suoi Perché i panni sporchi Si lavano in famiglia Stendi i panni Che ti morisse veramente Ma Giorgio Mori si vieni in calcare Finalmente non siamo morti insieme Miragola Devo morire di calcare Che cazzo ridi Giorgio Guarda che adesso mori e perdi 10-10 IGN proprio 10-10 Dai 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 Stormi dobbiamo recuperare Guardi che perdiamo così Io devo vincere Non hai capito niente Questo è uno dei giochi più competitivi Della storia del video game No Figa Figa Ma dove la fa Ma perché non mi muovo Mamma mia Ma cosa c'è qua In lavatrice Sono troppo forte Lavastoviglie I son fire again Mamma mia Mi sta ponendo un problemino Io non ho capito Allora Mori No figlio di trota Giampitek ha fatto cagare Prima Sì sì C'è Stormi La merda Stormi Forca Basta da dietro Fatevi una vita Cazzo Giorgio Get life Non è che devi prendere Guarda Mori ultimo Guarda Ma Giampitek è primo Ma con quale competenza Ragazzi grazie per questo video Mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Per scoprire la lavastoviglie Più bella del mondo Mi ha rotto un po' le scatole Diciamo questo gioco Eh Non so perché Che cazzo ridi Eh questa è la Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like Noi ci vediamo al prossimo video Woo Illuminati Group Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video